Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. E buon caffè mattutino a tutti voi per iniziare questa nuova giornata che il Signore ci concede. Ben ritrovati col nostro consueto appuntamento mattutino della rubrica Santi e caffè. Oggi è giovedì 21 ottobre e si celebra la festa di Sant'Orsola, vergine e martire insieme a 11 compagne. La tradizione vuole che fossero 11.000. Non erano 11.000, è stato un errore di trascrizione, erano soltanto 11.000 e purtroppo nella riforma conciliare e post conciliare si è ritenuto che fosse una leggenda, salvo poi essere smentiti dal ritrovamento di una epigrafe del IV-V secolo in una chiesa di colonia che conferma il dato storico, cioè realmente esistita una vergine di nome Ursula, poi tradotto in italiano con Ursula, messa a morte o da Dio Cleziano come ora vedremo o niente meno che dal temibilissimo re Attila. Fra un momento parleremo di Sant'Orsola e delle compagnie martiri. Non esiste più la memoria nella riforma liturgica del Concilio Vaticano II perché il metodo storico critico, la mannaia liberale si è abbattuta sulla stratificata storia della fede cattolica e così tante memorie di santi sono state ritenute leggendarie e così a malappena compare il loro nome ma non esiste la memoria. Invece oggi noi vogliamo ricordare Sant'Orsola anche perché è patrona della città di Colonia in Germania dove pur essendoci la venerazione dei santi re Maggi c'è una grande devozione a Sant'Orsola da secoli in memory, soprattutto nel Medioevo. E poi patrona di alcune città, compatrona di alcune città, tra cui Palermo. Palermo ha tutta una protezione femminile, c'è Santa Rosalia, c'è Santa Cristina, c'è Santa Ninfa e c'è oggi Sant'Orsola. Ma prima di parlare di Sant'Orsola vi ricordo questa sera la Catechiesi, non mi ricordo se è l'undicesima o dodicesima puntata, con il mio libro La Sinfonia dell'agnello. Eccolo qui, c'è già il post, condividete, 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 commento al libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Questa sera alle 21 e 15 c'è credo sia l'undicesima puntata e stiamo esaminando, se ricordate, il quarto capitolo, quello che parla di Dio Padre, dopo che nei primi tre capitoli Giovanni ci ha portato a concentrare la nostra attenzione su Gesù Cristo, sulla seconda persona della Trinità, poi il respiro diventa trinitario perché appunto si contempla il Padre. Vi ricordate l'altro ieri, martedì scorso, abbiamo parlato di colui che sta seduto sul trono, di aspro, cornalina e poi tutto il tema del Padre. Ecco, questa sera approfondiamo il corteo regale, la corte regale intorno al grande monarca, al divino monarca, che sono i 24 veiardi e i 4 esseri viventi e poi subito dopo, credo già stasera, credo già stasera, entreremo nel quinto capitolo che è uno dei più importanti, lo dico di ogni capitolo, ma è così l'Apocalisse. Si comincerà a sviluppare il dramma della storia umana dopo le visioni introduttive dei capitoli 1-4, perché il capitolo quinto che vi invito a cominciare a leggere è quello in cui si aprono i sigilli di questo libro e ci sarà tanto da dire che cos'è questo libro, che cosa sono questi sigilli, insomma è veramente un capolavoro l'Apocalisse. Del resto, come dice Fonbaltasar, è l'epilogo della storia salvifica e dunque ci sono tutti i temi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Vi aspetto dunque questa sera alle 21.15 in questa percorrenza avvincente anche dal punto di vista finora della risposta, si è sempre 1000, 1100, 1200, talora 1300 che seguono in diretta e tra la sera in cui si fa e l'indovani mattina si arriva sempre intorno a 4-4500 visualizzazioni. Sono numeri sorprendenti per Radio Domina che ci incoraggiano ad andare avanti. La sinfonia dell'agnello, potete chiedere il libro su Radio Domina, condividete, condividete, condividete il post. Bene, poi oggi che è giovedì, 21 ottobre, come ogni giovedì ci sarà la preghiera delle sentinelle di Betania. Benedico con tutto il cuore questo cammino di consacrate laiche che il prossimo 8 dicembre in maniera solenne faranno la consacrazione a livello nazionale e internazionale. Ecco, sentinelle di Betania, cioè gruppo di fedeli laiche che si mettono insieme, nubili o sposate, a pregare e lo fanno ogni pomeriggio, come nello stile delle donne che non cercano la ribalta, non cercano il risalto e allora possono pregare senza che nessuno li disturbi. La Presidente, la Rosanna, fa anche un ciclo di catechesi, però non vuole appunto, con uno stile anti-sessantottista, la Rosanna che tutti voi conoscete è nello stile anti-sessantottista, non vuole fare le catechesi in diretta sul Radio Domina. Più volte l'ho invitata a farlo, non se la sente, di fare questo ciclo di riflessioni bibliche ben preparate, con delle schede ben preparate, che lei ha tenuto come lezioni alle sentinelle di Betania. Qualcuno chiede l'orario, è alle ore 16, ma non è in diretta su Radio Domina, però le sentinelle che si sono iscritte sanno dove potersi incontrare. Bene, ritorniamo allora alla festa di oggi, Sant'Orsola, però mi stavo scordando di dirvi una cosa, è trapelata notizia che Benedetto XVI ha rilasciato una dichiarazione. Questa dichiarazione, non la posso acchiappare adesso purtroppo, è nel mio cellulare, mi è stata mandata, è in lingua spagnola, è stata rilanciata da testate giornalistiche di lingua spagnola. In pratica è morto un sacerdote tedesco, teologo tedesco, e Benedetto XVI ha detto che spera di raggiungerlo presto. In sintesi, un po' è questa l'affermazione. È un'affermazione che ci lascia un po' stupiti rispetto alle cose che nei giorni scorsi dicevamo. Abbiamo detto che c'è un Papa che sta con noi, c'è il Papa che resiste, che non vuole andare via in cielo, ma questa affermazione contraddirebbe lì per lì le dichiarazioni proprio dei giorni scorsi. Avrebbe detto, no, avrebbe detto perché a quanto pare la fonte è attendibile, ha detto che questo ci può stare, desidera andare in paradiso. Non ha detto niente di così preoccupante, anzi però la cosa che ci fa, caso mai, riflettere è che lui, Benedetto XVI, facendo memoria di questo teologo tedesco, lui che ha ora 94 anni, figli cari, non è mica, come si dice dalle mie parti, un picciotto, cioè un ragazzo, è un vecchio, avanti negli anni. Vero è che la regina Elisabetta ne ha 95 e ha detto che non si sente vecchia, ma ognuno ha il suo, come dire, il suo cammino. Ecco, è stato rilanciato anche dall'avvenire, e te pareva figurarsi, avvenire, diciamo che è il quotidiano di regime cattolico, Bergoglian cattolico, tace sempre su Benedetto XVI, salvo poi accogliere subito le dichiarazioni che tornano utili al proprio regime. Eccolo qui, Benedetto XVI ricorda gli amici scomparsi, spero di unirmi presto a loro. La lettera del Papa Emerito, ecco, eccolo qui, per il monaco cistercense deceduto in Austria, che era stato con lui docente all'Università di Regesburg, di Ratisbona, dice Ratzinger, tra tutti i miei colleghi e amici, lui era il più vicino a me. Ecco, e questo è interessante, non ha detto io ero il più vicino a lui, ma lui, questo collega che è morto, vediamo se troviamo il nome, vediamo un po', Gerard Winkler, che aveva 91 anni, ecco, monaco cistercense, teologo, Gerard Winkler, credo fosse un, non so, mi pare che fosse un dommatico, sì, un dommatico, però Ratzinger dice lui era vicino a me, perché per quello che riguarda invece Ratzinger potrà solo dire che lui, Ratzinger, era vicino a von Balthasar. Ecco, quindi, diciamo, di fronte a questo possiamo capire bene questa dichiarazione, anche se tutto va preso con le pinze, me ne sto accorgendo solo ora, perché il Papa si sarebbe firmato Benedictus decimus sextus, Papa emeritus, e allora qui casca tutto il castello, non me ne ero accorto, perché questo titolo emeritus compare e scompare, capito, è come le stelle quelle che si vedono ogni tanto, non sempre, questo emeritus non me ne ero accorto di quello, dunque mi rimangio quello che ho detto, non so se è vero, non so se è vero a questo punto, come vedete c'è sempre da stare molto in guardia con la comunicazione ufficiale, con i media, io l'ho sperimentato sulla mia pelle, su canali nazionali si sono inventati la storia di un prete criminale quando io non so ammazzare ai nostri giorni neppure una mosca, non la so ammazzare, ci ho provato ieri che me ne è entrato uno in casa, nonostante le zanzarie, ho provato a ucciderla, non ci sono neanche riuscito, sulla RAI io sono comparso come un vero e proprio criminale, quindi io sulla mia pelle ho sperimentato che i mezzi di comunicazione vanno presi con le pinze, qui che avevo deciso di fidarmi, guardate un po', benedictus decimus extus papa emeritus, quindi qual è, come vedete ancora una volta cambio del tutto posizione, è una strumentalizzazione perché deve morire da papa emerito, è indirizzata a Reinhold Dessler, abate dell'abbazia cistercense di Willering in Austria nella diocesi di Linz, nel testo dattilo scritto, quindi il papa l'avrebbe scritto con la macchina da scrivere, non so se, perché non il computer, boh, il pontefice emerito ricorda con parole, dattilo scritto, vabbè l'aveva scritto anche col computer, effetti letteralmente dattilo scritto se non è scritto con le dita, vabbè, vedete voi cari figliori, ricorda con parole toccanti il collega professore di Reggesburg, Ratisbona, Gerhard Winkler, anche lui monaco cistercense, deceduto nelle scorse settimane, all'età di 91 anni, la notizia della morte, queste sarebbero le parole di Ratzinger, mi ha profondamente colpito, vabbè aveva 91 anni comunque, tra tutti i miei colleghi e amici lui era il più vicino a me, scrive Ratzinger che di anni ne ha 94, quindi aggiunge, la sua allegria e la sua profonda fede mi hanno sempre attratto, ora ha raggiunto l'aldilà dove certamente molti amici lo aspettano. Poi la frase che ha avuto un eco grande sulla stampa di lingua tedesca e anche spagnola, sta girando in tutto il mondo, in tutte le lingue, a dire il vero, e che ha reso noto la missiva. Spero di potermi unire presto a loro. Quindi un Papa che si firma, che non parla mai e che improvvisamente compare per firmarsi come Papa Emerito, Papa Emeritus, ecco come qualcuno scrive, preparano i funerali, bravo, bravo o brava, non vedo chi è che l'ha scritto perché non mi compare a me sul mio display, abbiate pazienza, funziona così. Sì, è possibile, è possibile che vogliano preparare i funerali, spero di potermi unire presto a loro. Allora io invece adesso dico e se invece fosse una controreplica a quelle cose che qui sul Radio Domina, che per loro non esiste, noi non esistiamo, noi siamo fanatici, ma siamo il pericolo numero uno perché dei Viganiani non hanno affatto paura, ma dei membri del piccolo resto, del Cetus Ratzingerianus hanno sì che paura. Nei giorni scorsi abbiamo detto che il vetto sedicesimo ci assiste, con noi ci aiuta, ci protegge, qualcuno l'ha sognato più di qualcuno e di qualcuna che incoraggiava e diceva resisto per voi ed eccolo lì, spero di poter morire presto. Vabbè, io avevo iniziato adesso questa mia considerazione, non avendo visto il testo, dicendo che era probabile, però quando vedo scritto Benedetto XVI, Papa Emeritus, quando Benedetto XVI questo titolo non lo usa da anni ormai, non compare da anni, gli stanno preparando i funerali e lo vogliono far morire da Papa Emeritus. Infine il saluto. Sono legato a lui e alla comunità monastica di Willering in preghiera e in coda la firma di Benedetto XVI. C'è alla fine la firma di Benedetto XVI. Questo è il testo. Non ci importa sapere chi era questo professore. La lettera mostrerebbe, secondo avvenire, come il Papa Emeritus continui a curare la propria corrispondenza. Da quando ha rinunciato al Ministero Petrino, guardate che sono furbi, questa è già una vittoria nostra, lo rilancio al caro e stimato Dottor Cionci, spero che qualcuno glielo faccia presente, e abbiamo ottenuto già una grande vittoria, perché sono costretti, grazie al lavoro di uturno, non solo di Cionci, ma di altri nel mondo, li abbiamo costretti a non poter dire più che ha rinunciato al Munus Petrino. Questa è una grande vittoria. Avvenire il quotidiano di regime cattolico italiano, quello Provax per intenderci, quello a favore di tutte le aperture bergogliane, è un quotidiano che oggi è costretto a dire che Benedetto XVI ha rinunciato al Ministero Petrino. Guardi Dottor Cionci, spero le arrivi questo messaggio come a tutti quelli che stanno lottando con lei, pochissimi, in realtà è una grande vittoria, perché non possono più scrivere, grazie a voi, il Munus, perché non ha consegnato il Munus come lo avete dimostrato. Quindi da quando ha rinunciato al Ministero Petrino? E allora qui è già una vittoria, perché presto bisognerà spiegare se a questo punto la rinuncia è valida, visto che il canone 3.3.2, paragrafo 2, prevede che le dimissioni siano effettuate in relazione al Munus e non al Ministerium. Cioè la Chiesa, nella fattispecie il codice di diritto canonico, queste cose Cionci le sta approfondendo con una pazienza certosina che in video su Bio Blue sta approfondendo una serie di dossier vero e proprio, e questo è l'aspetto decisivo, la magna questio. Se Benedetto XVI, come ormai è evidente, non ha consegnato il Munus ma il Ministerium, si è realmente dimesso a norma delle leggi della Chiesa. Comunque sia, Cionci e colleghi martiri abbiamo ottenuto una grande vittoria. Fatelo presente anche all'ormai scomparso, non so più che fine abbia fatto fra Alexis e Bugnolo, non lo vedo più in giro, non so, non so, ma ditelo anche a lui. Fate presente a tutti quelli del Cetus, Ratzingerianus, di cui mi faccio vanto di essere un po' la guida, il maggiore, come si dice, il maggior Fominut. Ecco, dite anche a Fra Alexis e come al dottor Cionci che oggi a venire è costretto a ottenerci una clamorosa concessione che apre scenari assolutamente significativi perché non possono più dire il Munus, si getterebbero la vergogna addosso e allora a venire scrive da quando Benedetto XVI ha rinunciato al Ministero Petrino nel 2013. Dunque la questione è più che aperta. Ecco, la questione è più che aperta. Grazie a questa vittoria che noi possiamo cantare. Noi oggi possiamo, non sapevo, io non avevo visto il testo, lo sto commentando con voi, infatti come avete visto, un colpo di scena, avevo iniziato lasciando credere un po' che le cose stessero così e in realtà ancora una volta siamo in presenza di una strumentalizzazione clamorosa, però il diavolo fa le pentole, scorda i coperchi, sistemi di menzogna, prima o poi vengono smantellati e se per smantellare per esempio quello nazista ci sono voluti 12 anni, 12 anni circa, per smontare quello bergogna modernista, massonico satanista, ci vorrà secondo me molto di meno. Sono passati certo 8 anni, ma il nono anno, non so, tra il nono e il decimo anno 2021-2023, vedremo. Comunque sia, questo è già un varco assolutamente clamoroso, Cionci, assolutamente clamoroso fra Alexis, assolutamente clamoroso professoressa Estefania Costa e tutti gli altri, non tantissimi, assolutamente clamoroso, però se me lo consentite me lo sono rilasciato all'ultimo carissimo confratello Don Enrico Bernasconi, perché loro sono giornalisti, canonisti, noi siamo pastori, siamo i preti che insieme facciamo due per tre con le scomuniche. Ecco, da quando ha rinunciato al ministero Petrino? Non possono più scrivere da quando ha rinunciato al munus, perché grazie al nostro lavoro segnato dal dolore, dalla persecuzione morale, dall'isolamento, abbiamo ottenuto una prima grande vittoria che aprirà varchi insospettabili e cioè sono costretti ormai a dire che non ha consegnato il munus. Ci siamo riusciti, anche Canfora, ringraziamo il professor Canfora, che anche lui è stato uno dei primi a mettere in luce questa cosa. Se mi permettete, lo dico anche a Don Enrico Bernasconi, non so se lo conosce, vorrei anche fare memoria, dare onore all'emerito professore ormai defunto José Galat, che è morto, scomunicato, è stato il primo scomunicato, era un laico giornalista, professore, studioso, colombiano, di Bogotà, credo che forse, o di Medellin, non mi ricordo bene, non mi ricordo neanche quando è morto, ma qualche anno fa, lui aveva un canale televisivo in Colombia e quando Bergoglio è stato eletto falsamente papa, è stato il primo, il professor José Galat, a mettere in luce, onore alla memoria di questo laico che è morto scomunicato e che per primo ha detto che Bergoglio non è il papa, lì in Colombia è Benedetto XVI, non ha consegnato il munus. Ecco, allora se ora il quotidiano avvenire, che è il quotidiano ufficiale dei vescovi italiani su cui la Santa Sede tiene gli occhi, perché altrimenti non sopravviverebbe questo giornale, non se lo legge più nessuno, però lo pubblicano ogni giorno, perché arrivano i fondi dell'otto per mille, peggio per voi, peggio per voi, non so se mi capite, peggio per voi, continuate a fare queste scelte e ci beviamo la menzogna, si bevono la menzogna, ma poi chissà che anche la Santa Sede non provveda a sostenere questo giornale che non se lo legge più nessuno, però esce ogni giorno. E' questo giornale che è un giornale appunto di regime che porta avanti in maniera vergognosa la rivoluzione bergoiana, è costretto oggi, lo ribadisco, a dire, veramente non me ne ho accorto, è sorprendente come lo spirito santo ci guidi, è costretto a dire da quando ha rinunciato al ministero Petrino nel 2013 Benedetto XVI vive nel monastero Mater Ecclesie all'interno delle mura vaticane. qui si apre un barco, spero che qualcuno dei giornalisti, chissà che non ne vengano fuori altri, il re è nudo, il re è nudo, voglio dire che la verità ormai è acclarata e allora se Benedetto XVI non ha rinunciato al munus ma ha rinunciato al ministerium hanno da temere moltissimo tutti quelli delle fronde tradizionaliste che vanno addosso a Don Minutella con un livore mai visto, Iunacum e tutti gli altri che vergognosamente in questi otto anni hanno voluto chiudere gli occhi per opportunismo di qualunque tipo. Perché adesso se Benedetto XVI invito a... dobbiamo far qualcosa perché questo quotidiano ci apre un barco, non se ne sono accorti, non so chi è che ha scritto l'articolo addirittura forse a nome della redazione di... sì sì è proprio a nome... ecco Giacomo Gambassi, lo rinvio al Cionci questa cosa qui, Giacomo Gambassi scrive da quando ha rinunciato Benedetto XVI al ministero Petrino. Sì, bene, allora siccome il canone 332 qualcuno gli scriva la redazione di avvenire con rispetto senza tifoseria ma glielo dicano, glielo dicano siccome il canone 332, gentile redazione di avvenire. Se lo scrivo io non neanche me la leggono la lettera perché Don Minutella è il diavolo, è satana in Italia Don Minutella. Allora qualcuno scriva, più di qualcuno tra quelli che sanno scrivere, ce ne abbiamo persone colte, medici, professori, docenti, avvocati, scrivano scrivano con eleganza, come si suol fare, con raffinatezza formale, scrivano alla redazione perché rispondano. Naturalmente non lo faranno, però è già una grande vittoria perché bisognerà scrivere, gentile redazione di avvenire, virgola, a capo. Ho appurato oggi dalla pagina di ieri, 20 ottobre 2021, di avvenire su social, che il giornalista, vostro collaboratore Giacomo Gambassi, sto dettando lentamente perché possiate prendere nota, commentando l'ultima dichiarazione di Benedetto XVI, intervenuto per la morte del suo collega teologo Gerard Winkler, virgola, ha ad un certo momento affermato quanto segue e quanto è possibile leggere sulla pagina avvenire di ieri, che invito a fotografare, come si fa quella roba lì, non mi ricordo, che uno la conserva, fatelo subito perché la cambieranno, ne sono certo, la cambieranno. Quanto segue? Dunque, quanto segue? Allora, da quando ha rinunciato al ministero Petrino nel 2013, Benedetto XVI eccetera eccetera. O appunto, a capo. Ora, gentile redazione, vorrei fare presente che questa affermazione del vostro giornalista Gambassi apre una questione delicatissima sul piano giuridico. Punto. Infatti, virgola, il codice di diritto canonico che norma la vita della Chiesa, virgola, al canone 3.3.2, paragrafo 2, prevede che perché un romano pontefice si dimetta, virgola, occorre che consegni espressamente il munus. Punto. Se, virgola, dunque, virgola, scusate, sembra un gioco ma non lo è. Benedetto XVI, come voi stessi avete finora ieri, fino a ieri detto, ha consegnato il ministero, virgola, allora vuol dire che Benedetto XVI resta ancora il papa. Perché se non ha consegnato il munus, le dimissioni sono invalide. Infatti, il codice ha un linguaggio normativo che va rispettato. E il codice, il canone 3.3.2, prevede la consegna del munus, non del ministerium. E se dunque voi scrivete che dopo che ha consegnato il ministero Petrino, e non aggiungete perché non potete farlo alla luce anche degli ultimi contributi di gente e di sacerdoti che si stanno sacrificando per dire la verità, e non potete più dire dunque che Benedetto XVI ha consegnato il munus, perché è chiaro che non l'ha consegnato, è un dato oggettivo, dovreste a questo punto andare fino in fondo, esaminare, indagare e approfondire. Se la mancata consegna del munus non apre uno scenario assolutamente decisivo, cioè che Benedetto XVI abbia voluto o non abbia voluto, è poco importante perché il canone non prevede l'intenzionalità del soggetto scrivente, che abbia voluto o non abbia voluto consegnarlo il munus, resta un dato di fatto, non lo ha consegnato perché il munus non compare e perciò eccetera eccetera. Ora, alla luce di questo che vi sto dicendo, voi vi renderete conto che questa storia qui, questa faccenda qui, che meriterebbe di essere approfondita, rimarrà insoluta. Io rileggo, da quando ha rinunciato, questo è Galassi, che da anni scrive, se non prendo errore, Gambassi scusate, da un paio d'anni scrive su Avvenire, da quando ha rinunciato al ministero Petrino nel 2013, Benedetto XVI vive nel monastero Mater Ecclesi all'interno delle mura vaticane. Attualmente Ratzinger ha bisogno di aiuto per spostarsi e da circa un anno ha difficoltà a parlare, ha riferito il cardinale maltese Mario Grech. Ah, Mario Grech! Mamma mia figlioli cari, veramente guardate il complotto, poi dicono che siamo complottisti. Mario Grech, sapete chi è? È uno dei bracci armati di Bergoglio, il cardinale Mario Grech maltese di Malta, è un cardinale assolutamente venduto alla rivoluzione Bergogliana, guarda caso proprio lui cipa, è come quando c'è il prigioniero in carcere e i secondini riferiscono al guardiano del carcere e il guardiano del carcere fa la conferenza stampa e chiedono ma come sta il boss in cella di isolamento? Come sta? Allora come mi ha riferito il secondino cardinale maltese Mario Grech riferisce come sta il prigioniero, come sta il detenuto Ratzinger. Allora mi ha detto, quindi ci dice anche che cosa gli ha detto al secondino Grech il detenuto, il boss Ratzinger, il signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio, mamma mia figlioli cari, che meraviglia, scusate devo asciugarmi le lacrime, mamma mia il cardinale Grech mi commuove, è un uomo così trasparente, guardate non è massone, non è che ha la porpora perché deve anche lui distruggere la chiesa cattolica, no, 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 è un uomo tutto di Dio, si vede in faccia proprio, è tutto un uomo di Dio, tutti questi che stanno attorno a Bergoglio, hanno tutto il viso trasparente, qualcuno ce l'ha anche un po' così, guardate non faccio il nome, questi sono i cardinali, un paio di cardinali attorno a Bergoglio, alcuni sono così, altri sono come per dire che sta succedendo, allora Benedetto XVI ringrazio a Dio che non parla più, ma figlioli cari era meglio non leggerlo l'articolo, avrei preferito rimanermene all'idea che avevo detto all'inizio, cioè che è verosimile che un papa a 94 anni possa dire non vedo l'ora di andare in cielo, ma voi vedete, voi del piccolo resto lo sentite nel cuore che questa è tutta manovra, che è tutta una presa in giro, prendono in giro le anime, questa è gente senza scrupoli, guardate, la chiesa cattolica in Vaticano non esiste più se non grazie a Benedetto XVI, appena muore Benedetto XVI il cattolicesimo da Roma va via, guardate, la sede di Pietro non sarà più a Roma, per quanto tempo? Boh, solo Dio lo sa, ma certamente la sede Petrina alla morte di Benedetto XVI non sarà più in Vaticano, non sarà più a Roma, ecco, quindi il carinale greco ci dice che lui ha sentito da secondino quello che ha detto dalle sbarre il detenuto Ratzinger, c'è la camicia a strisce e c'è il numero scritto qui, il numero scritto di Bergoglio qui, ecco, Benedetto XVI ci riferisce, ha proseguito a scrivere personalmente in una recente conversazione con il settimanale Bunte di Monaco di Baviera, il segretario particolare di Ratzinger, l'arcivescovo Georg Genswein, ah ecco un altro affidabile, il Papa è uno solo, ha scritto, ha fatto sapere a Don Bernasconi, virgola, ed è chiaro che è il Papa Francesco, ma non è affatto chiaro, per questo lo dice, ha affermato quest'altro che il Papa Emerito è molto lucido mentalmente, ma fisicamente è diventato piuttosto debole, si conclude così l'articolo e ha riferito ogni giorno, questo è ancora il Papa che parla, Benedetto XVI diceva, ma aveva detto che stava zitto e che apprezzava il silenzio, però parla, però parla col cardinale Grek, il secondino, magari ha portato un pacco di sigarette, che ne possiamo sapere, una sbarra di cioccolato, una sbarra di cioccolato, una barra di cioccolato, non lo so, ecco, sai il secondino, io mi preparo, capite? Io mi sto preparando, dice il canto di Lucio Dalla, ve lo ricordate? E questa è la novità! Allora io mi sto preparando a queste tecniche, non so se mi metteranno in cella di isolamento o con altri detenuti, vedremo, comunque sia, comunque sia, miei cari figlioli, te il secondino te lo puoi comprare, insomma, ti regala poi, il secondino ti regala le sigarette, anzi io vorrei, spero che le mie figlie spirituali mi vengano a trovare ogni tanto, so che qualcosa si può tenere in carcere, non so cosa fanno tenere a Ratzinger, e comunque sia, magari mi portate dei sigari, e per favore anche i libri di von Balthasar. Quindi il papa, Benedetto XVI, il detenuto Ratzinger, certamente avrà fatto qualche concessione al secondino greco. Mentre il guardiano del penitenziario vaticano, dove nel frattempo si preparano a entrare come illustri condomini anche figure come Cardinale Becciu, e chissà quante altri in questo tempo di misericordia in cui il giustizialismo vaticano si è rivelato aggressivo, oltremodo non del tutto formalmente giusto, come ha dimostrato la ringa difensiva del Cardinale Becciu. Allora è diventato piuttosto... Vediamo però come conclude. Ogni giorno recito la liturgia delle ore... Ah, non è lui che parla. E chi è che parla? Ah, ho capito. Questo è Georg Geschwein, che ci dice che ogni giorno recita la liturgia delle ore con il papa, emerito, attenzione, va precisato, se no è finita. C'è capito? Geschwein deve precisare che ogni giorno prega, col papa emerito però, col papa emerito, e pregano anche il rosario, magari per papa Francesco. Una parte considerevole del tempo è riservata alla preghiera. Ecco, questo è Benedetto XVI, non si è data grande attenzione negli altri quotidiani, non ci sono altre notizie che riguardano questo aspetto qui. Come concludere, Fiori Cari? Il re è nudo. Il titolo è proprio questo qui. Il re è nudo. Le ultime strumentali dichiarazioni attribuite a Benedetto XVI. Per quel che mi riguarda non credo a una sola virgola di tutto ciò che è stato detto. Il progetto è, forse veramente Benedetto XVI si prepara magari ad andare incontro a Dio, di farlo morire come un nostalgico mezzo paralitico che non vede l'ora di andare in cielo e che deve morire da papa emerito. Il titolo più significativo è Papa emerito che ritorna più volte nell'articolo e tuttavia abbiamo già ottenuto una grande vittoria. Non possono più scrivere perché se no farebbero i ridicoli, oltremodo ridicoli, e temono che questo accada, abbiamo già ottenuto la vittoria di non permettere loro di scrivere che il papa ha rinunziato al munus, un lavoro prezioso in questo senso lo ha fatto e rimarrà sempre tale il lavoro prezioso fra Alexis. Adesso dobbiamo costringerli a una ritirata. Guardate, questa è una battaglia. Il nostro è arrivato oggi dopo che ieri io ero il venerdì santo, oggi è il mattino di Pasqua a quanto pare. Perché? Perché sono due eserciti che si contrappongono. Purtroppo abbiamo i frombolieri viganiani alle spalle, quindi siamo accerchiati. In questo momento la battaglia è a rischio perché noi stiamo concentrati, pur essendo in pochi, come esercito contro la fronda bergogliana, ma alle spalle arrivano i frombolieri di Viganò. E quindi è un momento di difficoltà. Ma vedete, Dio è dalla nostra parte. Oggi le truppe arretrano perché il quotidiano avvenire, organo ufficiale della conferenza episcopale italiana, ben gestito dalla Santa Sede, è costretto a dire che ha rinunciato al ministero. Non possono più scrivere che ha rinunciato al munus. Qui abbiamo vinto, abbiamo visto che stanno arretrando. Ora li dobbiamo attaccare ancora di più. Come? Chiedendo ripetutamente, ripetutamente, invadete la redazione di avvenire se volete essere come Dominutella, o se invece, scusate, non è un'accusa, ve ne volete stare con le braccia conserte a piangerci addosso, ora è il momento che tutti, 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 migliaia, dalla Spagna, dall'America Latina, dall'Italia, dappertutto, scrivete alla redazione di avvenire, invadeteli con questa dichiarazione. Ma se ha rinunciato al ministerium, dunque resta il Papa a norma del codice dito canonico. Per favore, redazione, volete risponderci? E così l'attacco che li sta costringendo già ad una prima ritirata, li spinge che se noi li spingiamo ancora di più indietro, allora possiamo girarci un attimino e il Maggiore Fominut chiede aiuto per arginare i frombolieri di Viganò che stanno arrivando da sopra il colle. E avete capito? E questa è la battaglia. Attenzione che ogni tanto dobbiamo svolgere gli occhi verso la colle da cui veniamo, dove c'è la sacra generalessa, la comandante, che Caterina Emmerich vede vestita con gli abiti militari, che ingaggia lei. La battaglia. Noi esprimiamo nuovamente solidarietà e vicinanza a Papa Benedetto XVI, il quale non è affatto Papa Emerito. E se oggi il re è nudo, se oggi per la prima volta in modo ufficiale sono costrette le redazioni di regime a dire che ha rinunciato al ministerium e non al munus, è già una grande vittoria. Dobbiamo a Fra Alexis questo grande merito, dobbiamo al coraggio di Don Enrico Bernasconi questa capacità di venire fuori, peccato che altri si siano persi dietro ai richiami mistici, mentre qui c'è da combattere. Dobbiamo, soprattutto all'ostimatissimo Andrea Cionci, il merito di avere tenuto in piedi stagioni nelle quali nessuno ne voleva parlare, la questione è così. Oggi tutti insieme l'esercito di Benedetto XVI abbiamo ottenuto una grande vittoria, una grandissima vittoria. Questa battaglia è vinta. Non possono più dire che Benedetto XVI ha rinunciato al munus, perché sanno che non è così e ormai è acclarato, e allora scrivono che rinuncia al ministerium. Ma allora dobbiamo fare il passo in avanti. Se rinuncia al ministerium vuol dire che è ancora il Papa, perché perché le dimissioni siano valide bisogna rinunciare al munus e non al ministerium. Bene, miei cari, io volevo parlarvi di Sant'Orsola, ma oggi è un colpo di scena che io stesso non avevo previsto. Il re è nudo. Bene, adesso rispondiamo a un paio di telefonate. Pronto? Oh, buongiorno padre! S'è lodato Gesù Cristo? S'è lodato, io sono l'oreatto da Bologna. Bene, Lorenzo hai detto, vero? Lorenzo. Lorenzo, eccoci Lorenzo. Ecco, grazie. C'è una brevissima riflessione, una domanda. Ecco, io spero che al Papa non succeda nulla, perché dall'articolo che ha letto stamattina, dove lei contamente li ha smascherati, più che una contrattazione di quello che pensa il Papa, mi sembra una minaccia. Cioè? Cioè il fatto che stanno mettendo avanti le mani, perché poi non succeda qualche cosa, a Benedetto XVI, perché in che c'è il Papa, le porte dell'inferno non possono prevalere. Sì, e guarda, Lorenzo, posso se rimani in linea a dirti subito questo? Non sono d'accordo, sai perché? Perché se anche fosse così questa manovra, il fatto però, come ho ripetutamente detto, che siano stati costretti, parlando di Benedetto XVI, a dire che ha rinunciato al ministerio, ma in realtà è una grande vittoria nostra. Ho capito. Capisci? Cioè, per quanto io ne so, è la prima volta che un quotidiano importante che ruota intorno alla vita della Chiesa come avvenire, ben inteso, è un quotidiano italiano, però ha un risalto internazionale, avvenire, è conosciuto da tutti i vescovi del mondo, e oggi il giornalista, non so se inconsapevolmente, comunque ha scritto che Benedetto XVI è rinunciato al ministerio. Questo apre uno scenario importante, capisci? Certo, grazie. Ecco, Dio ti benedica, Lorenzo, coraggio, coraggio. Una domanda velocissima la posso fare? Dipi pure. Grazie, ecco, io volevo dire questo. Io prego i tre rosari tutti i giorni, sono ben felice, sono contento, e prego anche la sacra piaga della spalla di Gesù Cristo. Bene. Ma la cosa stranissima è che alla sera, quando io prego normalmente, ultimamente me ne scordo. La mattina mi assi e dico ma ho pregato alla sacra piaga della spalla? No, è perché? Non è che per caso domanda a quello con la coda gli sia tanto passaggio questa cosa. Certo, certo. Grazie, padre. Dio ti benedica, Lorenzo. Certamente, certamente, tutte le preghiere che noi facciamo per meditare la passione di Gesù, quindi Misteri Dolorosi del Rosario, la via Crucis il venerdì, vi raccomando di farla ogni venerdì, le orazioni di Santa Brigida e la piaga della spalla sono molto odiate dal diavolo, quindi, perché la meditazione della passione di Cristo ci protegge, così come molto forte e anche, e penso lo stiate sperimentando tutti, il rosario del volto santo di Gesù. Quindi vi invito a resistere a oltranza nella preghiera rivolta alla passione di Cristo. Pronto? E' pronto, padre? Buongiorno. Siamo dato a Gesù Cristo. Sono... Sempre siano dato. Senta, io vorrei fare un'altra considerazione sull'articolo che... Sì. Appena letto di avvenire. C'è un altro passo falso che hanno fatto. Vediamo. se questo se ha rinunciato al ministerium come noi sappiamo non al munus il Pava Benedetto rimane Pava. Come fa a mettere poi la firma Pave Merito sulla sua dichiarazione? Brava! Non avevo considerato. Brava. Chi sei? Maria Grazia. Ma che ottima considerazione. Sei stata proprio brava. Era un dettaglio che non avevo colto. Proprio così. Grazie Maria Grazia. è un'osservazione veramente pertinente quella di Maria Grazia. C'è contraddittorio se ha rinunciato al ministerium e non al munus come è possibile che si firmi il Papa e Merito? Tra l'altro c'è l'intestazione all'inizio andate a guardare poi sui social l'articolo di avvenire di ieri però non di oggi 20 ottobre e poi c'è alla fine Benedetto XVI non mi ricordo se ho perso la pagina e adesso la recupero non mi ricordo se c'è anche alla fine ma credo di no la firma di Papa e Merito. Brava Maria Grazia è un'osservazione pertinente. Pronto? Pronto padre? Si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato. Io sono Marianna noi ci siamo conosciuti da Don Enrico in Puglia non so se si ricorda di me. Sì. Ok. Padre io voglio allora io siamo da Torre Maggiore le voglio dire solo una cosa per quanto riguardava la catechese sulla funzionia sul padre che le ha fatto l'altro ieri sì l'altro ieri l'altro ieri sì io all'inizio della mia conversione quando pregavo il padre nostro forse era l'entusiasmo immaginavo sempre con gli occhi chiusi che io scalavo una montagna e vedevo su questa montagna Gesù mi si ricordioso una volta ho sognato che mentre salivo questa montagna mi stavo inginocchiando e Gesù mi ha toccato la faccia e me l'ha girata sul suo lato destro io ho visto un vecchietto seduto su una cima di una montagna il volto non l'ho visto ho visto solo i capelli bianchi mi sono rivolta a Gesù gli ho detto chi è quel uomo e Gesù mi disse e lui ci deve pregare e mio padre è l'eterno abbandonato sì grazie grazie di questo sogno grazie Dio ti benedica con tutto il cuore figlio la cara stasera ci sarà il proseguimento della diretta però colgo l'occasione per ricordarvi stasera alle 21.15 la sinfonia dell'agnello il mio commento al libro dell'apocalisse c'è già il post in evidenza condividete 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 bene miei cari allora concludiamo qui la nostra diretta di Santi e Caffè oggi è un caffè abbastanza dolce perché appunto gradevole abbiamo ottenuto una grande vittoria non possono più scrivere che Benedetto XVI ha rinunciato al Munus perché questo è ormai un dato di fatto che tutti grazie al lavoro di questi nostri giornalisti tutti conoscono adesso se non ha rinunciato al Munus e scrivono che ha rinunciato al ministerio devono spiegare perché caso mai si firmerebbe Papa Emerito visto che resta ancora il Papa bene miei cari io produrrò un post scritto perché Verba Volant è scritta Manent e lo pubblico in giornata su Radio Domina vi aspetto poi questa sera per la diretta con il libro dell'apocalisse finiremo il capitolo 4 entreremo nello splendido capitolo 5 quello dell'apertura dei sigilli vi benedica Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen sia lodato Gesù Cristo Avanti con Maria lunga vita a Papa Benedetto Grazie a tutti